Benvenuti ragazzi, sono Vale03 e mi faccio vedere perché sennò è brutto Siamo allo speciale 800 iscritti, la prima parte dello speciale 800 iscritti Voglio ringraziare, continuate ad iscrivervi, magari condividete i video ai vostri amici Condividete il canale ai vostri amici, lasciate like E oggi vi mostro i primi giochi di Nintendo 3DS e DS Poi il prossimo video vi mostrerò quelli di PS3 e poi quelli di PS4 Allora partiamo con i giochi in cui abbiamo perso le copertine Abbiamo Mario Kart 7, si è messo a fuoco? Ehm, più o meno, vabbè dai ok 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 sì sì Ok Mario Kart 7 e porco Dio Scusate Buona conversione nera Questo è il bello della diretta, spero non si sia rotto Perché sono di mio cugino E poi abbiamo in Azuma Eleven, luce, go luce Parlaci, cioè velocemente del gioco Vabbè è un gioco del 2014, in Azuma Eleven, il primo della trilogia di Arion Che cacchio devo dire Vabbè doppiato in italiano Certo Poi abbiamo Pokémon Ultraluna Ultime varie, stanno dicendo Vabbè questo è un gioco del 2017 Vabbè sì, bello Comunque questo qui preso, ok apprezzo pieno In Azuma Eleven, vengo crono, stuono Se non sbaglio questo qui è quello di che pagano 15 euro Vi raccontiamo questa cosa Allora praticamente avevano messo il prezzo 15 euro Questo gioco che in realtà costava 35 L'abbiamo preso 15 euro, abbiamo preso 35 E' meglio così no? Vabbè abbiamo sparagnato 20 euro Allora poi andiamo a Pokémon, un altro Pokémon Pokémon Rubino Omega che piace molto a Flavio Ho preso 40 euro sull'anno Eh ti è piaciuto questo? Sì, è piaciuto Però ho usato 40 euro a posti 45 Insomma Pokémon Sole è preso quasi al Day One Due giorni dopo Cioè due giorni dopo al Day One Ecco qui, questo qui vabbè Quindi ho preso solo Ultraluna Perché sennò è sempre lo stesso Questo ho preso al prezzo pieno Mario Sports Super Sport Uno degli ultimi giochi usciti per 3DS Sì perché poi vi ricordo che i giochi non li fanno più per 3DS Questo c'era il tennis, il calcio, il baseball, eccetera Qualsiasi cazzo c'era dentro Pokémon Y Questo qua ho comprato un mese dopo il Day One Però Bello Bello anche questo Sesta generazione Sesta generazione E abbiamo finito la prima colonna Poi andiamo con Inazuma Eleven 3 Lampo Folgorante Molto bello Anche questo È la fine della trilogia di Mark Evans Devo dire la verità Che questo qui È uno dei Ha avuto a Natale Non lo so Del 2013 Sì mi sembra di sì Sì molto molto vecchio In un mese ho avuto questo Molto molto bello Anche questo È un po' folgorante E poi abbiamo Pokémon versione nera Abbiamo anche Pokémon versione Cioè Pokémon versione nera 2 Abbiamo anche ovviamente Pokémon versione nera Quindi a completare appunto la bilogia Diciamo se vogliamo intenderci così Per dire Abbiamo Inazuma Eleven Go Crono Stones Pagano tutti Inazuma Crono Stones Fiamma Sì Abbiamo anche il tuono per questo E diciamo per questo E per completare anche qua la bilogia Vabbè però qua l'abbiamo comprato 35 quanto da pagare? Non ci sta Non ci sta Non ci sta No però stavo 5 anni fa Questo Yo-Kai Watch Comprato su Amazon Comprato su Amazon per un Natale Insieme al GTA V Che poi vedrete per PS3 Niente da dire Sinceramente un po' Non lo so Io azzardo a dire una cosa Un po' un plagio dei poco Ma poi confermerai Non lo so No No Poi addirittura guardate qui FIFA 14 Preso però tipo un anno dopo Dall'uscita Sì No sì Quasi un anno dopo Non so quanto è stato pagato Questo Siamo 45 Però Non è che sia Graficamente Però ci sta Non è un sopone E poi abbiamo l'ultimo gioco Insieme a luce Abbiamo anche ombra Di una zoomedale Quagato 15 euro Più meno Dopo tanti anni Per uscita Così L'ho preso Ma guardate Se sembra nuovo Sembra nuovo La copertina È tenuta veramente bene Dove fare complimenti A chi lo teneva Prima di noi No ma quando Ma è il nuovo Ah è il nuovo questo Sì Allora Pardon Però veramente ottimo Comunque Il video finisce qui Lasciate Pure pochi like Però Vi invito comunque A lasciare tanti like Tanto poi uscirà lo stesso La seconda e la terza parte Metterò anche una musica Di sottofondo Per alleviare appunto Il Diciamo Intanto una macchina Che passa Per alleviare appunto Il video Noi ci vediamo Un prossimo video Ci vediamo Con la seconda e la terza parte Ma anche con altri video Bella